leggo rassegna stampa da dagospia il filosofo fulvio abate demolisce chiara ferragni bene il virtuoso pensatore fulvio abate asserisce asserito più volte chiara ferragni le è indifferente eppure continua a sprecare righe su righe su di lei paragonandola a uno stand dell'expo e della merce d'esposizione complimenti abate ma perché perdere tempo nei tuoi voli pindarici e la tua urgenza espressione l'analizzare una cosa che reputi insignificante paragonando una donna della merce messa in vendita in uno stand di expo perché spiegamelo è che probabilmente i vostri editori quando scrivete di chiara ferragni sono contenti perché quando parlate dei misticismi del significato della vita non vi caga un cazzo di nessuno e quindi il problema siete voi che vi abbassate così tanto per così poco e già che ci sono visto che oggi sono in modalità giri polemica per quanto riguarda tutte le sterili polemiche sul fatto che noi useremmo nostro figlio per ottenere benefici economici punto primo personalmente appartengo a classi subalterne ho 28 anni chiara ne ha 30 insieme abbiamo due società con una ventina di dipendenti che danno da mangiare ad altrettante famiglie e la nostra fortuna di certo non la dobbiamo alla nostra alla nascita di nostro figlio ma al lavoro punto secondo non ha molto senso utilizzarci come paradigma dell'esporre il figlio in cambio di benefici economici per placement quando io non ho mai fatto un post pubblicizzato con mio figlio e quando ci sono personaggi pubblici che utilizzano il figlio come se fosse un espositore da centro commerciale da anni terzo punto abbiamo semplicemente deciso di pubblicare le foto della nostra famiglia senza pixelare la faccia di nostro figlio come se fosse un collaboratorio di giustizia perché tanto non avrebbe avuto molto senso da tale esposizione mediatica cui siamo sottoposti quindi scelta opinabile o scelta opinabile o meno a cui inevitabilmente un figlio neonato si deve adattare non essendo senziente a tal punto da poter indicare le proprie preferenze ed è il medesimo scenario di quando si battezza e si converte ad una religione un figlio senza poterli chiedere vuoi? però ovviamente se un bambino viene esposto mediaticamente da una coppia che inevitabilmente è già esposta mediaticamente e quindi per la proprietà transitiva lui stesso sarà esposto mediaticamente ci si indigna però quando lasci libero arbitrio a un bambino e non lo battezzi ci si indigna perché quindi chiudo e non asciugo più per chi vuole dicevo è tutta una questione di punti di vista per chi vede il bicchiere mezzo vuoto siamo una famiglia che ha costruito il suo riscatto sociale sulle basi dell'analfabetismo di ritorno per chi vuole vederlo mezzo pieno siamo due persone che sono venute dal nulla e si sono costruite le cose senza i sistemi clientelari a cui l'Italia è abituata quindi per concludere se proprio dobbiamo trovare un messaggio positivo e c'è questa necessità di lanciare un messaggio guardate due persone che dal nulla si sono costruite tutto senza appartenere a un sistema clientelare senza cognomi altisonanti e auguratevi che i vostri figli possano avere le stesse opportunità ciao da Federico perché il mio nome è Federico Lucia ho 29 anni e comunque sia vengo da Rozzano amici miei ho sbagliato non ho 29 anni ne ho ancora 28 sono ancora un teen idol non so Abate ti ho stupito eh vengo da Rozzano la terza media ma ho un po' di dialettica e capacità di argomentazione lo vedo dal tuo sguardo che sei stupito vero?